Salve Giorgio Crisafi TV, titolo della Repubblica rivolta contro la manovra, la rivolta, la manovra di fine estate. In che consiste questa rivolta? Passiamo dalla mutanda bianca alla mutanda scura, bianca, scura e comunque la rivolta, resta bianca, comunque la rivolta, resta scura. Cambio le mani, mutanda scura, mutanda bianca, a voto, la rivolta. Un saluto, Giorgio Crisafi TV